ciao a tutti benvenuti a mce 2022 sono qui per presentarvi brevemente i componenti per impianti a pompa di calore partendo dalla valvola antigelo serie 108 è un sistema di protezione per la pompa di calore monoblocco che permette di scaricare l'acqua in caso di assenza di corrente elettrica quindi quando la pompa di calore non può intervenire passiamo poi al filtro defangatore magnetico calè fix f serie 577 questo è un filtro defangatore magnetico extra filtrante perché permette un trattamento dell'acqua differente dagli altri defangatori grazie ai tre passaggi ben distinti primo la defangazione secondo la trazione magnetica di tutte le burità ferrose presenti nell'impianto e terzo la filtrazione in uscita dell'acqua con una mesh molto fine da appena 0,16 mm abbiamo poi collettore porta strumenti serie 305 per gli strumenti di controllo e di sicurezza e eventualmente per la manutenzione veloce del vaso di espansione passando invece a un componente quasi essenziale negli impianti a pompa di calore il volano termico che in questo caso è anche pensile che ci permette di mantenere sempre disponibile un volume minimo di acqua nell'impianto per la pompa di calore abbiamo anche a disposizione inoltre il sistema di distribuzione con il separatore idraulico il collettore e i gruppi di distribuzione tutti coibentati e quindi performanti anche per il raffrescamento vi aspettiamo dunque AMCE 2022